Giannino, Berlusconi continua a fare degli appelli, è un voto inutile votare Oscar Giannino, perché lei che cosa gli vorrebbe dire? Berlusconi è da tre giorni che mi rivolge di tutto cuore e lo ringrazio a questo appello dicendo che è un voto inutile e poi dice però ritirati perché mi fai perdere, se fosse così inutile non varrebbe la pena di votare tanto appello, quindi evidentemente in questo appello così sistematico da parte di Berlusconi c'è la ragione profonda dell'utilità del nostro voto, perché evidentemente il timore evidente del capo della coesione centrodestra è che lo facciamo perdere, a cominciare dalla Lombardia, non solo la Lombardia, ma a cominciare dalla Lombardia che è laddove poi scatta il premio di maggioranza in regioni importanti, quindi io ringrazio Berlusconi di questo aiuto che mi dà per avere della propria bocca rivelato agli italiani ciò che noi sappiamo da sempre, siamo nati esattamente per far perdere i vecchi schieramenti, lui ce ne dà una riprova, quindi un voto utilissimo esattamente perché è quello, il senso, quello che dice Berlusconi, non posso che dirgli di tutto cuore, lo ringrazio di questo appello che non posso naturalmente adempire, magari un appello diverso sarebbe quello che io potrei rivolgere a lui, cioè che lui si ritirasse a lui, in definitiva è la sesta volta per così dire, le cinque volte precedenti ha detto una cosa e ne ha sempre fatta un'altra e forse dopo sei volte la cosa migliore sarebbe cedere il campo e prendere atto che c'è una società civile che si è messa in moto per sostituirli.